signori eccoci qua con la dottoressa che non vorreste mai trovare quando entrate al pronto intervento ciao dottoressa come ti chiami? Andrea di dove sei? di Sant'Ambrogio come mai ti hanno conciato così? come mai secondo te? perché stai per sposarti? esatto wow c'è una baldracca come te ha deciso a scelto una sola donna? siamo sicuri? si guarda in camera e di per tutto il resto la mia vita giuro solo con lei ma che cagate hai scherzo allora dici un po' quanta che stai con sta donna? eh più di dieci anni come si chiama? Elisa salutiamo Elisa ciao Elisa ciao Elisa veramente siamo un casino dove andate? che giorno vi sposate? 12 maggio paese di lei o paese tuo? paese di lei giusto rispettiamo le tradizioni perfetto viaggio di nozze dove? Thailandia gabicciamare Thailandia fantastico bene buon viaggio di nozze allora se mi sai rispondere io ti regalo un free drink sei pronto? proviamo cos'è la faretra? puoi farvi aiutare? cos'è la faretra? cos'è? cos'è? 5 4 3 2 1 è un porta frecce sei andato vicino palo va bene noi ti vogliamo bene lo stesso saluto chi vuoi? ciao a tutti ciao a tutti